Dunque, l'idea per questo romanzo mi è venuta da un racconto breve che ho scritto in precedenza. In questo racconto avevo cercato di descrivere due persone, un uomo e una donna, attraverso gli occhi di un animale selvatico spaventato, per cercare di restituire le impressioni, le sensazioni che io immaginavo potesse provare questo animale spaventato, ho cercato di descrivere le due persone come due creature stranissime, due creature incomprensibili fatte di un coacervo di parti anatomiche animali combinate alla reinfusa. Il risultato mi piacque abbastanza. In seguito stavo pensando di lavorare a un'altra storia che ruotava intorno a un bambino di dieci anni che affronta le cose che si affrontano a dieci anni, cioè il rapporto con i compagni di classe, con gli adulti, il bullismo, l'insicurezza, cose del genere. Mi venne l'idea di rappresentare tutte le cose che facevano di lui, le sue caratteristiche che lo rendevano in qualche modo diverso dagli altri, di rappresentarle nello stesso modo, cioè di rappresentarle sotto forma di un animale immaginario, strano, che lui trovava così come si può trovare un cane abbandonato, un cane randaggio. A quel punto avevo il punto di partenza della storia. In seguito il libro si è sviluppato in modi che non avevo previsto. Nella fantasia del ragazzino abitano un'infinità di personaggi, ci sono nella sua testa letteralmente palazzi pieni di appartamenti abitati da fatine, uomini lucertola, cantanti famosi, calciatori famosi, Batman, tutte quelle cose che possono esserci nella fantasia di un bambino di dieci anni. E questi personaggi hanno reclamato sempre più spazio. Lo stesso si può dire per i personaggi realistici, la famiglia, i compagni di classe eccetera. Insomma questo è in pratica nel corso della stesura il libro ha preso la sua forma che non era quella prevista all'inizio ma che alla fine mi è piaciuta molto. Ah beh ma allora sa che ho capito tutto? Se è verde e ha sei occhi che prima erano quattro, sette antenne e le pinne allora non si scappa. Non si tratta di un bruco geometra gigante, è un eolao. Un eolao? Un eolao? Cavoli! Infatti lei è molto fortunato ad averne trovato uno, sa? Sono animali molto timidi. Tutti quanti scambiano gli eoleolaolai per bruchi geometra giganti perché sa, ogni tanto si assomigliano un po', soprattutto negli anni bisestili. È un malinteso abbastanza comune fin dall'antico Egitto e in Mesopotamia. Gli eoleolaolai? Plurale di eolao? Ah! È un plurale irregolare, sa come curriculum, curriculum, curricula. Molto irregolare! Oh beh, non puoi tanto. È irregolare e basta, c'è ben di peggio. Il plurale di Trombachelone, ad esempio, è frizoflotteri. Cavoli! Ad ogni modo, di che parlavamo? Eoleolaolai e bruchi geometri giganti nella Mesopotamia. Giusto! In verità, gli eoleolaolai e i bruchi geometri giganti appartengono a famiglie completamente diverse, sa? E specie, settori, generi, ambiti distinti, eccetera, eccetera. Dottoressa Colcaffer? Sì? E io cosa faccio con il singhiozzo? Chi è che ha il singhiozzo? Ce l'ha leolao. Quando singhiozza, si spegne la tv. È grave? Ah beh, dipende. Siamo in febbraio? Agosto. Benissimo, allora. Ed è sicuro che si tratti proprio di singhiozzo? Non è che magari il suo eolao squimbrottola? Il Tullio. Ci penso su un momento. Ha presente lo squimbrottolio tipico del leolao? Sa quella specie di firi firi deng deng opla opla? Ha presente? Ma no, non mi pare che squimbrottoli, disse. Tanto meglio? Beh, allora deve essere proprio un singhiozzo. Niente di grave. Provate a dargli per cinque giorni, dopo i pasti, due cucchiai di shampoo. Quello con il balsamo due in uno. Vedrà che il singhiozzo gli passa. Dunque, per quanto riguarda lo stile, lo stile è il risultato di una serie di scelte che ho fatto, la prima delle quali è una cosa che applico più o meno a tutto quello che scrivo e cioè cerco di scrivere in modo semplice, questo sia in termini di vocabolario che di costruzione delle frasi. Cerco di riprodurre in qualche modo una lingua che assomigli più alla lingua che si utilizza quando si parla, piuttosto che quella magari più elegante, magari più impostata, che si tende ad utilizzare quando si scrive, per stabilire con chi legge un rapporto un po' più familiare piuttosto che formale. Ho ottenuto poi alcune espressioni gergali dialettali che servissero a collocare geograficamente la storia che si svolge in Ticino. Credo che queste espressioni aiutino a dare un tono un po' più realistico, che contrapposto alle storie per niente realistiche che racconto, così danno una contrapposizione che mi piace. Infine mi interessava evocare ovviamente l'atmosfera dell'infanzia, visto che il protagonista è un bambino di 10 anni e quindi la lingua che ha utilizzato è molto giocosa, è piena di cose buffe, di giochi. Lui per esempio, il protagonista, ha questa fantasia spropositata, quindi quando scrive i temi scolastici non gli bastano i normali strumenti grammaticali per esprimere le cose enormi e gigantesche che ha nella testa, deve utilizzare una sorta di sgrammaticatura che nel libro viene chiamata il superlativo iperbolico, c'è anche nel titolo del libro, il titolo è il Tullio e l'Eolao più stranissimo di tutto il canton Ticino, più stranissimo è il superlativo iperbolico. Ci sono poi i gatti, la famiglia del protagonista ha un'infinità di gatti battezzati con degli avverbi anziché dei nomi normali e dunque per tutta la durata del libro, spesso quando compare un avverbio è necessario specificare se si tratta di un avverbio o se si sta parlando di un gatto. Questo tipo di giochi con la lingua si accumulano con l'avanzare del romanzo, tant'è che alcune parti possono persino sembrare delle filastrocche e danno, io credo, questa atmosfera giocosa che richiama l'infanzia, io credo. Tullio e l'Eolao più stranissimo di tutto il canton Ticino, il romanzo di Davide Rigiani, è un romanzo di formazione molto divertente che ha per protagonista un bambino, il Tullio, sempre rigorosamente con l'articolo davanti al nome, una cosa che farebbe imbestialire il Michele Apicella di Nanni Moretti e una singolare creatura a metà fra un cane e un bruco gigantesco o forse si potrebbe dire un ibrido fra alcuni degli amici di Gioele, e gli stupefacenti animali delle figurine che nell'infanzia molti di noi trovavano nei biscotti colussi, gli indiscussi biscolussi o in tempi più recenti fra le creature scaturite della fantasia di Tim Burton o che si muovono in certe scene di Wes Anderson. Ambientato nel canton Ticino, il romanzo sorprende per più di una ragione e sovverte qualche luogo comune. Il canton Ticino di Rigiani poi non è il luogo della impeccabile precisione svizzera dell'ordine costituito, tipico dei cliché che solitamente si affibbiano alla svizzera, così come peraltro la creatività non è ciò che contraddistingue gli italiani e molti italiani sono semplicemente confusionari. Il canton Ticino di Rigiani è un po' l'uno e un po' l'altro, un po' svizzera e un po' Italia, una sorta di terra di mezzo, un terzo spazio ibrido in cui si incontrano e si scontrano culture diverse, sicché il luogo in cui il Tullio vive con la sua famiglia più che un luogo di confine è una soglia, un varco verso mondi immaginari al tempo stesso perfettamente reali. È un luogo in cui l'altro, l'estraneo, l'alieno, l'eolao, viene accolto e non respinto, accolto con molte braccia aperte e a braccia aperte nel libro di Rigiani viene accolta anche la lingua italiana, perché il suo romanzo straripa di invenzioni linguistiche, dall'eolao ai trottolini intortigliati con il fiocco e una lingua che lui, che l'autore, che Rigiani, osa maltrattare fin dal titolo. Quindi questo bel romanzo è sia per ragazzi, sia per lettori e di qualsiasi età e forse sarebbe più giusto dire che è per tutti quei lettori che non hanno dimenticato il bambino che ancora alberga dentro di loro.